Noi siamo in procinto di prepararci qua, Zellig si sta approssimando e noi di quando in quando vogliamo arrivare nel tendone precisi e forti. Amici di Zellig ci stiamo a proprio in quadro, ora siamo microfonati ed esca la voce ed entrino le gente. Ciao ragazzi, sosteneteci eh! Ciao ragazzi!